I diritti umani sono universali, quindi l'avversario principale dei diritti umani nel mondo è lo Stato nazionale, la pretesa della sovranità assoluta dello Stato nazionale. Come alleanza dei liberali democratici per l'Europa al Parlamento europeo ci siamo battuti proprio per questo, perché i diritti umani fossero riconosciuti, la libertà di espressione, di manifestazione, di pensiero, di coscienza, di non essere torturati, di non essere uccisi, fosse riconosciuta oltre e sopra la sororanità degli Stati nazionali. Per questo ci siamo occupati di ogni questione nel mondo, la Cina, la Russia, l'Africa, in ogni parte del mondo, non per difendere le indipendenze nazionali, le lotte di indipendenza, ma per difendere il diritto umano universale di ogni singolo cittadino del mondo alle proprie libertà fondamentali, incluso il diritto alla democrazia. Questo è un concetto nuovo che siamo riusciti a introdurre nei lavori del Parlamento europeo e il diritto alla democrazia che si cerca di affermare attraverso la non violenza, la non violenza gandiana, quella della disobbedienza civile, della resistenza passiva e quindi la necessità che l'Unione europea operi una conversione delle spese militari, delle strutture militari, non per essere neutrale nei confronti delle dittature, di chi opprime gli altri popoli, no, ma per avere nuovi strumenti, nuovi strumenti non violenti per l'affermazione del diritto individuale alla democrazia e dei diritti umani. In questa azione siamo stati spesso determinanti a fronte di concezioni un po' nazionaliste, antiche, arcaiche della destra di questo Parlamento, del Partito Popolare europeo e anche una concezione spesso oggettivamente disinteressata a questi diritti, magari perché ritenuti eccessivamente liberali, che abbiamo riscontrato da parte dei socialisti europei. I liberali democratici per l'Europa hanno su questo molto spesso fatto la differenza, trascinando il Parlamento europeo sulla moratoria universale sulle esecuzioni capitali, a favore della Corte Penale internazionale contro i genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità, in difesa di popoli oppressi come per esempio in Tibet e in altre parti del mondo.